E adesso al calcio con le siciliane, il Catania le prese con alcune preoccupazioni di non poco conto perché fanno riferimento alla crisi economica del club, il Palermo oggi pronto all'abbraccio con i tifosi e il Messina ancora in fase di costruzione della squadra. E' un paziente sempre bisognoso e di cure, il calcio Catania non si fa in tempo a cercare di programmare una strategia di mercato che la crisi economica del club presenta subito il conto. A Torre del Grifo sono giorni carichi di tensione con due scenari paradossali e contrapposti. Negli uffici, la dirigenza e la proprietà a cercare una soluzione per evitare il peggio. Sui campi, la squadra che continua ad allenarsi in vista del prossimo campionato. I nodi però rischiano di venire al pettine presto. Entro lunedì il club dovrà presentare un'integrazione alla fideiussione per circa 500.000 euro a causa dello sforamento del tetto di ingaggi. Soldi che non ci sono, che i soci di Sigi stanno faticando a mettere chi per scelta e a chi perché fuori dal proprio budget. Fatto sta che cresce la preoccupazione, cresce anche nella squadra che attende la corresponsione degli stipendi. I giocatori sarebbero disposti ad aspettare, escludendo intanto la messa in mora, ma chiedono fatti e potrebbero non bastare più le rassicurazioni dei dirigenti più vicini al gruppo. Diverso il clima a Palermo, oggi l'abbraccio con la città, un migliaio i tifosi per il primo allenamento aperto al pubblico. Domenica amichevole con Lenna, mentre sul mercato si attende l'arrivo di Matteo Brunori dalla Juventus Under 23. Al DS Castagnini piacciono i centrocampisti, Jacopo dall'Oglio del Catania ed il palermitano Guido Davì, ex Sicula Leonzio, per l'attacco. Occhi puntati su Michelevano, mentre sempre più probabile la partenza nei prossimi giorni di Crivello, Somme e Bro che piacciono in Serie C. A Messina si è ancora in una fase di costruzione della squadra. Il DS Argulio ha bloccato una decina di giocatori e si attende l'ufficialità. Dopo Morelli, oggi è stato il turno di Di Stefano, esterno, ex Catania, lo scorso anno al Paternò. In arrivo Fofana del Carpi, Damian della Tarnana e Baldè dalla Sampdoria, lo scorso anno al Foggia. Piace anche Sarsi e Puttini del Bari. Il ritiro si svolgerà a Zafferano Etnea. La formazione primavera sarà allenata da Ezio Raciti.